Buone notizie per i residenti di Cucurano. Da metà settembre sono partiti lungo via Attilio Regolo e via Falcineto i lavori sull'estensione della rete dell'acquedotto comunale per 1,2 chilometri. Infatti alcune famiglie della zona erano sprovviste d'acqua se non quella prelevata dai pozzi privati. Dopo numerose richieste da parte degli abitanti il comune insieme ad Aset hanno provveduto a far arrivare l'acqua pubblica fino alle case. Una zona dove potenzialmente si potranno allacciare 15-20 famiglie quindi siamo veramente molto contenti. È un progetto che è partito qualche anno fa attraverso un'analisi delle esigenze e delle richieste che arrivavano in comune e in accordo con Aset quindi abbiamo progettato anche quali tipi e dove intervenire. Ovviamente le richieste sono tante, continuano ad essere tante e credo che ci sia l'impegno di tutti, Aset, Comune di Fano e tutti gli assessorati coinvolti affinché si possa arrivare a un'estensione graduale ma cerchiamo di arrivare in tutte le case in maniera tale che tutti possano usufruire dei servizi come questo molto importanti. Sul luogo del cantiere presenti oltre agli operai e all'assessore fanesi anche il sindaco Seri e i responsabili di Aset. Questo è un bel segnale, è un percorso che avevamo avviato già da qualche anno, è un impegno che ci eravamo assunti perché è fondamentale creare la rete dell'acqua, un bene primario in modo particolare poi in questi periodi, in questi anni dove specialmente in estate c'è una sofferenza maggiore quindi diventa strategico estenderla ma ci sembrava giusto che non ci fossero ancora delle parti della nostra città che avevano questo problema. Ovviamente non si sta realizzando soltanto a Cucurano, a Sant'Andrea anche in altre realtà, qui siamo ormai non dico verso la conclusione ma con lavori avanzati, grazie ad Aset che sta seguendo tutto il processo e il lavoro e quindi è una bella risposta ai cittadini di queste zone che l'aspettavano da tantissimi anni.